Buonasera, ecco qui Bellame che sta estraendo dalla busta magica le medaglie per i campioni dei Gunners. Eccoli qui, eccoli qui. Mini spot per noi. Eccoci qui con la prima azione. De Champions. Marco Romani. Presidente della BCC. Mario Moschino. Bellissimo, è più bello. Stefano Fiore, benissimo. Cristiano Merolla. Bravo, grande, sei migliore. Bello, bellissimo. E' spedito Moschino. Grande, grande, è più forte. Numero 10, numero 10. E infine, il miglior capitano di sempre. Andrea Romani. Bellissimo. Ci sta a pubblico. Ci sta a pubblico. In memoria di Paudice. Ma oggi purtroppo sei nel nostro cuore. Riposa in pace Paudice. Buona serata a tutti quanti dal battuto male. La medaglia a Paudice. La medaglia a Paudice. La medaglia a Paudice.